Presidente, anche oggi ha subito un tentativo di aggressione da parte dell'opposizione. Come ha vissuto questa giornata in aula? Beh, sicuramente sono molto dispiaciuto rispetto a tutto ciò che è accaduto in aula. Dopo aver aperto la seduta e aver dato l'ok rispetto al parere del segretario generale, rispetto al provvedimento di sospensiva sugli ordini del giorno, c'è stata una sorta di, non parlerei di aggressione, ma sicuramente è stata occupata il mio scranno con fare leggerissimamente minaccioso. I colleghi hanno fatto un qualcosa di troppo, mi è stato asportato per due volte il badge, che è un documento che accredita la postazione della Presidenza per dare il via alla votazione, per dare al Presidente l'opportunità di poter votare. E tra un parapiglia e l'altro abbiamo avuto, ho avuto l'opportunità di aprire il voto, di chiuderlo. È stato dichiarato il voto con 30 voti favorevoli rispetto alla pregiudiziale che porta la firma dell'onorevole Gramazzo ed altri. Mercoledì prossimo, nuova seduta. Come gestirai i lavori? Come l'abbiamo sempre fatto nel rispetto del lavoro dei miei colleghi di maggioranza e di opposizione, il Presidente dell'Assemblea è un ruolo terzo, ma il Presidente dell'Assemblea deve fare anche il bene della città e non può permettere a nessuno che si possano bloccare i lavori. E dunque abbiamo avuto l'opportunità di poter proseguire, così come ho detto poc'anzi, con il benestare del Segretariato Generale per andare avanti, ripeto, con l'unico fine di fare il bene dei cittadini e di portare a votazione finale entro il 30 di giugno, entro il termine di legge, il bilancio previsionale di Roma Capitale. Questo è l'unico intento, questo è l'obiettivo finale che mi ha obbligato a portare avanti questa procedura.